come va questa quarantena raga bella dallo scuro di questa stanza la barba che cresce sempre di più il joystick in mano spotify e niente raga così sono stato assente da youtube per due giorni da qualsiasi social perché lo stress si sta facendo sentire e niente volevo salutare e chiedervi come state qui si gioca si stiamo creando dei beat con un mio collaboratore e niente raga guarda che barba qui amo la lana e vabbè io vi saluto ragazzi via il comodo di giorni ve lo faccio qualche video buono tanto sto a casa fino al 3 aprile bella